Se voi non vogliamo che una persona agisca politicamente, non bisogna dargli vari punti di vista. Mi dispiace però, la relatrice sta leggendo qualcosa che noi non abbiamo a velocità impossibile in una lingua che non è la sua lingua madre. E' impossibile. Ci dispiace però, la traduzione simultanea può essere fatta solo a una velocità normale. Vorrei presentarvi un grande esperto di Open Government che parlerà della trasparenza, cosa c'è oltre la trasparenza. È un amico personale ed è un avvocato per Nessu Benitario. Buongiorno a tutti e grazie a Antonella per questa presentazione. Quattro anni fa ero un oratore a Barcellona e oggi è stata una giornata molto interessante con tanti oratori. Abbiamo parlato di trasparenza, Open Data e altri progetti. E adesso ho una grande responsabilità perché cercherò di spiegare che cosa c'è oltre la trasparenza. Penso che la mia idea, che è rappresentata dal titolo della mia presentazione, è contro la retorica della trasparenza, eccetera. E vorrei iniziare con le parole di Giorgio Orwell. Il linguaggio politico serve a far apparire le bugie vere e dare un'apparenza di solidità all'aria fritta. Comunque abbiamo parlato di trasparenza, di open government e queste parole mi ricordano l'allegoria della caverna. Vi ricordate questa allegoria della caverna presentata dal filosofo greco Platone nel suo lavoro, la Repubblica? Sicuramente lo conoscerete. Allora Platone aveva immaginato una grotta abitata da prigionieri che erano lì da quando erano piccoli. Non riuscivano a vedere nulla, però potevano vedere solo le ombre sul muro di fronte. Platone aveva in qualche modo un po' di riuscire e lentamente i miei occhi adattivano alla luce. E credo che piano piano questi prigionieri sono liberati, perché grazie a trasparenza, open data, e open data platforms come Open Coesione, Open Expo, Open Bilanci, Open Corporate. Abbiamo tanti cittadini che stanno cercando di capire come funziona la pubblica amministrazione, e come stanno spendendo i soldi, come stanno cercando di risolvere i loro problemi. Però gli occhi dei cittadini si adattano alla luce del sole e la trasparenza solo lentamente. E allora ci sono tante, tre grandi sfide al di là della trasparenza, secondo me. Prima di tutto bisogna avere un'alfabetizzazione a livello dei dati. Stamattina, in rappresentanza della RAI, ha parlato del 34% degli italiani, però abbiamo altri due tipi di della cultura civica, e la mancanza di cultura civica, e poi abbiamo anche quello che noi chiamiamo la problematica burocratica. In qualche modo dobbiamo effettizziare le persone, perché la pubblica amministrazione deve capire e poi comunicare i dati, ma i cittadini e i giornalisti devono anche imparare a capire le informazioni e le aziende devono capire come poter utilizzare questa informazione all'interno delle loro aziende. Seconda sfida è assicurare l'efficacia del processo di informazione. È assolutamente necessario di completare questo contesto legale sulla trasparenza, pubblicando le informazioni sul sito web, con la base della legge sulla libertà dell'informazione, e tutti hanno diritto a chiedere le informazioni. Questo è un argomento molto importante in Italia. E poi sviluppare delle iniziative di responsabilità, come l'Open Expo che è stato presentato stamattina dal mio caro amico Giovanni Menduni. E a questo punto, we understand that the transparency is not an objective in itself, but it's only the first step towards engagement. And so, now, public administration, government, can use this information for more efficient decision-making. And I think it's necessary opening, building new spaces for confrontation. thousands of years ago, in ancient Greece, between the 5th and 4th century, we'll build the Agora, a public space for more than 5.000 people. And the question is, now, in social media age, are we making enough in this way? I think the right answer is no. And I see a lot of mistrust in tools like petitions and public consultations. La CEP is asking for help. Allora, bisogna chiedere aiuto, cioè, bisogna coinvolgere i cittadini nel processo decision-making, perché, altrimenti, la trasparenza può far aumentare la mancanza di fiducia tra i cittadini e le istituzioni. Una volta che prenderemo queste misure, possiamo tornare nella caverna, perché nella caverna ci sono altri cittadini e prigionieri. Altri cittadini e prigionieri, il nostro ruolo, il ruolo della civiltà civile, è spiegare il valore degli open data, è spiegare l'importanza degli open data nella crescita economica, è spiegare il ruolo della trasparenza in a better decision-making. Penso che sia un modo complesso, un modo pericoloso, se vogliamo, però noi dobbiamo chiedere perché abbiamo bisogno di trasparenza, perché chiediamo in open data, noi possiamo rispondere con queste parole. Nessuno ha dimostrato che una società ignorante sia una società sicura, e sia una società migliore. Grazie. 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 Grazie.